e qua è ancora chiusa non hanno rimosso la catena allora è chiuso di là nonostante l'ordinanza di riapertura della strada dunque ci andiamo di qua anche perché era pieno di gente e non volevo rogne nonostante l'ordinanza di riapertura abbiamo solo perso tempo là cerchiamo di recuperarlo perché ormai è buio mi ricordo mai che questa chiude siamo qui alla malga d'altiti o coda di bosco nonostante l'ordinanza di riapertura cielo di fuoco nonostante l'ordinanza di riapertura non mi sterzo bene sono troppo sconfio e la forcella nuova ha un avanzamento troppo corto mi sterza male mi chiude troppo nonostante l'ordinanza di riapertura nonostante l'ordinanza di riapertura nonostante l'ordinanza di riapertura nonostante l'ordinanza di riapertura ne suffiata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il resto va a dare la curva successiva Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 oh let's go Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cane! Ehi cuccia cosa fai qua? Allora sono stato qua degli alpini e mi dicono che il cagnetto non sanno di chi è. Adesso non so se è tornato giù. Grazie a tutti.